Sono 40 anni che lavoro in questo posto. Era pieno di gente, era pieno di gente con tanti negozi. C'erano 6-7 panifici, tipo, più o meno. Alimentari, ce n'erano 1, 2, 3, 3 negozi alimentari. 4, anzi, c'era il pane con alimentari anche qua. E dopo, una frutta e verdura, una fioreria che adesso non c'è più, una chincaglieria. Insomma, ce n'erano negozi parecchi che adesso ci sono. Gli artigiani del legno, ce n'erano uno nel vicolo del legno. E dopo, no, erano già via. I draulici erano via. Ah, il calzolaio c'era, c'era il calzolaio. Ah, 2 calzolaio ce n'erano, 2 calzolaio. C'era più movimento, strada, si parlava. Cioè, era un paese qua. Era un rione vivo. Ecco, adesso tutti stranieri, non so se parla, continuano ad andare bene il gente, sono nuovi, perché una volta erano proprio fissi. Dopo, con la scusa delle case Itea e Albrione, sono andati via tantissimi della città qua, i vecchi. Ecco, ha ristrutturato le case, dopo sono venute gente nuova, che viene e va, insomma, resta magari in periodo, dopo va, ecco. Così. C'è che adesso è cambiato talmente, da una volta. Grazie. Grazie.